Buongiorno novate, torno a voi dopo il messaggio del 4 maggio che preannunciava l'inizio della fase 2 e anticipava alcune riaperture. Vorrei fare con voi un'importante riflessione. Come sappiamo tutti la Lombardia è tra le regioni più colpite al mondo da questa pandemia. Io credo che questo dato ci debba far pensare. Qualcosa sicuramente non ha funzionato, ma non sono io a dirlo. Le inchieste che si sono già avviate ci daranno qualche risposta nel tempo, soprattutto sulla gestione dell'RSA in cui tanti nostri anziani hanno perso la vita. Questa pandemia però ci ha dato tante lezioni, ci ha lanciato soprattutto il messaggio entusiasmante di provare a ripartire da dove ci siamo lasciati tre mesi fa, costruendo ponti nuovi, facendo tesoro di questa esperienza a partire dalla straordinarietà del volontariato e dalla grande risposta data dalla nostra comunità a chi in questo periodo è rimasto indietro ed è andato in affanno. A tre mesi dall'inizio di questa emergenza ci prepariamo quindi a ripartire tra grandi discussioni e perplessità, riaprendo spazi di socialità, di lavoro e di mobilità. Vediamo però di non sbagliare, di non buttare al vento tutti i sacrifici fatti fino ad oggi. Ridisegniamo la nostra quotidianità rispettando le norme di sicurezza che entreranno a far parte della nostra vita e ci accompagneranno per moltissimo tempo. Non è stato così però in questi ultimi giorni. Io mi sono molto arrabbiata nel vedere quante persone immediatamente il 4 maggio sono diventate maratonete ed erano in giro in massa a correre. Quante persone sono entrate nei parchi chiusi violando l'ordinanza che avevo firmato e soprattutto quanta gente senza mascherina sosta in centro in piazza della chiesa riunita a capannelli oppure davanti ai bar con i bicchieri in mano. Forse non abbiamo ancora compreso quello che abbiamo vissuto anche se i dati su novate non sono catastrofici ci sono ancora tanti contagi e soprattutto ancora tanti morti nella nostra regione. Il forte timore e la preoccupazione è che la curva possa risalire. Con la Giunta stiamo lavorando ad un progetto da proporre ai bambini e alle loro famiglie che quasi sicuramente dovranno trascorrere l'estate a casa, oltre a una serie di provvedimenti economici per aiutare le famiglie, i commercianti e le attività maggiormente penalizzate, a come utilizzare gli spazi sportivi e a come riaprire per i servizi essenziali di uffici pubblici. Stiamo aspettando le indicazioni dal Governo per poi riproporle e discuterle ai tavoli con le associazioni, i comitati e con le scuole. Come avete saputo però da domani ripartono molte attività. Restiamo anche qui in attesa di conoscere bene come il Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia hanno previsto di normare questa ripartenza. Dopo la pubblicazione del decreto ieri in gazzetta ufficiale c'è stata una nottata convulsa di ulteriori discussioni con i Presidenti delle Regioni, che però pare abbia portato finalmente a un testo condiviso. Per noi novatesi vi anticipo che nei prossimi giorni riaprirà la biblioteca, almeno per il prestito libri. Riapriamo i parchi cittadini, ma non le aree giochi, e riapriremo gradualmente, a tempo pieno anche i cimiteri cittadini. Come già sapete riprenderanno da settimana prossima anche le sante messe nelle nostre parrocchie. Da mercoledì prossimo, informazione importante, la protezione civile distribuirà a tutti i novatesi due mascherine a testa. Abbiamo illustrato le modalità per averle sui canali comunicativi del Comune e sulle locandine che esporremo nei negozi della città. Mi raccomando, usatele per i vostri spostamenti, perché vi ricordo che permane il divieto di assembramento e quindi è necessario mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività all'aperto. Serve, cari concittadini, oggi più che mai un forte senso di responsabilità. Dobbiamo fare ancora qualche sacrificio, con la consapevolezza che solo così potremmo vincere la battaglia sconfiggendo sul fronte comune questo virus. Buona domenica a tutti!